Graeme Power è un'attività italiana e parte di una grande gruppa che si chiama HEPTA Group che lavorano specialmente nel generare set con Graeme Power. Meccalte ci ha aiutato a crescere. Iniziamo circa 20 anni fa e uno dei nostri principali era Meccalte. Iniziamo insieme a loro da nulla ma poi insieme abbiamo cresciuto molto, molto veloce. Mi sono accettato perché dopo due anni della pandemia è il primo show che abbiamo esibito. Abbiamo visto molti persone che sono interessanti quindi molti contatti e è un show molto buon per noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.